Ai Patrioti, i professori codardi ci insegnarono la storia scritta dai Garibaldini e dai Savoiardi, ci educarono all'inferiorità e noi non abbiamo eretto un solo monumento ai Patrioti suddisti che lottarono contro i Nordisti. Ce ne dovremmo vergognare. Onore ai giovani Patrioti del terzo millennio che resistono e insistono al Sud chiedendo diritti allo Stato inadempiente.